cosa regalo alla mia mamma? una torta? un mazzo di fiori? caramelle? per la mia mamma preparo un bel biglietto ecco cosa serve colla stick forbici tratto pen carta di recupero un rossetto tempera del colore che vi piace di più coloro tutto un foglio dello stesso colore e lo lascio asciugare mi servirà più tardi divido in tre parti un foglio bianco e lo piego per il lungo taglio lungo la piega unisco e formo una striscia lunga poi piego a fisarmonica seguendo le linee prendo il foglio colorato e segno con la matita il contorno del biglietto otterrò due quadrati li ritaglio e li incollo sulla prima e l'ultima pagina del biglietto taglio un pezzo di cartone ricavo due cuoricini li incollo sovrapposti sulla prima pagina pagina numero uno una torta ritaglio così tre pezzi di carta e l'incollo pagina numero due fiori ritaglio dei pallini e l'incollo sovrapposti a due a due caramelle incollo e con il tratto penna disegno alcuni particolari pagina numero tre bacio metto tanto tanto rossetto lascio l'impronta su un foglio ecco un bel bacio ritaglio e incollo il bacio mamma scrivo anche il nome della mia mamma le faccio un bel vestito colorato braccia capelli è quasi finito mancano solo gli auguri e la firma auguri mamme